Noi abbiamo un'arma in mano, l'arma del voto. Maroni ricorda sempre che il 22 di ottobre ci sarà il referendum per l'autonomia della Lombardia. Maroni chiede una competenza per la regione Lombardia, che è la competenza sulla sicurezza. Solo così potremo comandare a casa nostra. Dobbiamo andare a votare e dare un segnale forte allo Stato. Qui comandiamo noi e decidiamo noi del nostro territorio. Nessun altro da Roma deve dire può decidere sul nostro territorio. Maroni ci crede al referendum, ci crediamo tutti, ci batteremo per questo. Ricordatevi il 22 ottobre perché il modo migliore è quello di andare a votare. Contro Roma per il nostro territorio, per la nostra Lazzate, per i nostri sindaci, per la nostra Lombardia e per la nostra Padania. Grazie.